Sì, vogliamo comunque continuare la scelta positiva delle ultime partite, vogliamo continuare a dimostrare il nostro gioco, sicuramente domenica sarà una partita ancora più difficile dovuta probabilmente al campo, che comunque è un campo in erba, il tempo in questi giorni non è stato dei migliori, quindi ci sarà anche quel piccolo problema in più, ma noi comunque andiamo dritti per la nostra strada e cerchiamo di fare il meglio possibile. Comunque quest'estate è stata fatta una squadra praticamente totalmente nuova, quindi c'erano degli equilibri da costruire, non credo sia solo merito del reparto difensivo, ma comunque di tutta la squadra, perché abbiamo iniziato finalmente a giocare da squadra, quindi dalla prima all'ultima difendiamo e attacchiamo tutti insieme. Sicuramente quest'anno è un campionato di Serie B sempre più competitivo rispetto agli scorsi anni, se possono perdere punti con chiunque e noi siamo abbastanza soddisfatti del giro d'andata, speriamo di chiuderlo nel migliore modo possibile e poi dopo ripartiremo con tutto il giro di ritorno.